Ok. Save. No, Fraps è stronzo. È stronzo Fraps. Ah, fanculo, devo cercare un'altra cosa. C'è un notizio che si chiama Cintoto. Cintoto! Ciao Cintoto! Salve. Come sta? La cabanea au fond du jardin? Cintoto! 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 Chi è il payday? Che cosa? Sì per sei. 36. Eh vabbè. Credo che puoi iniziare... Mewtwo? Cosa c'entra Mewtwo adesso? Non lo so ma c'è la chat fottuta. È il bello dei veri giochi con i server. Dove sei finito? Ah ok. Sei un po' sotto di me! Nooo! Non farlo! Non farlo per più! Porco! Piango nell'angolino, vedi? Come piango. Non c'è l'animazione! No, sto piangendo, sto piangendo. Fai finta che quello di momento sia il pianto. Mi sto tirando pugni in faccia. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut addio santo va scattoso e non posso farci niente oh jackson jackson man quanti felice io purtroppo non volevo avere la faccina quella arrabbiata quella felice quella cosa volevo una faccia lì fissa la faccia che ricorda tutto che ricorda ah no aspetta dovrei andare non devo andare al laboratorio no devi andare prima su ricordi io ne devi parlare con il pro foc ok hey wait don't you go go down what ah ok sto arrivando anch'io è tranquillo ah ti sta portando anche a te in braccio dovrò cercare un altro programma ok si 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 lo conosco il gioco ormai sono anni che ci gioco questo qua l'ho smesso da un bel po' perché ormai gli anni sono passati però minchia lui si chiama Gianluca Ita mi sa che è italiano no non l'avrei mai detto tu cosa prendi? ehm allora allora Charmander squilter muttos allora questo è squilter e questo è Charmander 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 ok ok quello bulbasaur aspetta ormai si fa prendere le cose temo la z se z e x sono i b comunque ah z e x ok ci ho messo un'ora a capirlo io però ok ho ricevuto un bulbasaur ma io prendo questa cosa e allora quanti ricordi solo che non c'era così tanto casino nel laboratorio di Sony no non c'era tanto questo cosino e non c'erano i fumetti sopra la testa dei personaggi non c'era questo secondo me ne ha musichine fate a mano perché non sono gli originali vabbè piuttosto vabbè quanti strike di copyright ti beccheresti è una fortuna che sia così sai cos'è il brutto della Nintendo credo che devi fare la stronza se ti sentono ti uccidono lo sai io li voglio bene ma li voglio anche male si ma tu prendi Charmander inizi per forza forte usi i graffi invece che azione io ti do una cosa tu hai detto un'altra proprio lo stesso e ovviamente il mio manca perché è stronzo aspetta che hai preso lo squirtle ciao Charmander no no bulbasaur eh si vabbè oh ti pare che il mio bulbasaur fa la merda di mancarlo due volte di fila proprio in questo incontro che è importante diciamo che questo incontro qui è quasi il incontro più facile perché devi vincere le tue forze invece nella versione non è ah ok il bagliotto tasto non partiva comunque non avevo io ho perso è solito il livello siiii sarà il livello 10 io ho perso come ah è perso e si perchè squirtle e e e bulbasaur iniziano con azioni certo bulbasaur ha perso uguale uguale perchè bulbasaur è desommerda in questo gioco c'è uno che si chiama come il personaggio di league of legends come un nuovo personaggio di league of legends come si chiama? e se vieni con su lo vedi eh valento non riesco ed è leon leon messi eccomi no 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 più su e più su non posso andare perchè c'è la ragazza che mi impedisce di andare avanti no basta che passi accanto ah ok mi aveva bloccato e si ho incontrato gente Katerpie adesso Katerpie? va bene ciao Katerpie a livello 2 non ti vergogni io ce l'ho al 4 ma fa c***o you will die pronto? putu aspetta che la prenda tipo bracere vedi che ti fanno male io la abbraccio con eliane non posso la mi sta facendo male Mori cicatrippi di merda Perfetto Vero quattro sto cazzo Ancora Hai fatto un passo Ho fatto un passo Bello È un altro caso Il bello è che non posso catturare i Pokémon Perché dovrei andare dall'altra città Per ritirare un pacco Tornare qui, dargli il Professor Roak Poi lui mi dà il Pokédex e le 5 Pokéball Questo me lo ricordo Bravo Certe cose me le ricordo perché Allora Rossofuoco Più o meno Invece Rubino, Zaffiro e Smeraldo Me le ricordo un po' di più perché Ci ho passato più tempo Sì ma anch'io Ti ho raggiunto con livelli Aspettami Raggiungimi, io sono letto Vabbè meglio Meglio allora No, mi hai raggiunto Per forza Ti vedi qua, sono all'altro dello schermo Mi vedi? No, non ti vedo perché c'è lo schermo Del combattimento che mi impedisce la visuale completa Mi copre così Ti stai addormentando In mezzo a un combattimento Come osi Ti meriti la sconfitta PG Ok, sono setto del livello Torni il vantaggio io Torni il vantaggio io Yeah Per forza A me tanto poi Becherò anche io un combattimento E siamo pari di nuovo Ma tanto Tu sei il vantaggio Di un livello Vaffabagno E beh perché sei morto Non è colpa È colpa tua È colpa di Bulbasaur Che È la seconda volta che vedo uno Che preso Bulbasaur Contro il suo rivale Muore Perché è un Bulbasaur L'hanno fatto così Il Bulbasaur Diciamo che È una merda Tu devi prendere Charmant L'affanculo No io non voglio Charmant Altre volte che giocavo Ho detto basta No io Eh infatti Forse per quello Dici basta Charmant Ho passato tanto di quel tempo Con questo Pokémon Che Ormai È l'unico al 100 Che avevo nel mio gioco Del Game Boy Ci fammi capire Io sono in una stanza Che praticamente Sarebbe la scuola Perché qua sembra C'è una lavagna Aspetta eh Ok In una casa Cosa che ti ho provato Ed è quello che ho capito Puoi anche personalizzare Salve Puoi anche personalizzare Il costume del personaggio Sì sì Puoi anche fare tipo Delle maschere Delle ali Dove vai È qua Ah è qua Qui bisognava andare Sì No devo ad curarmi il panno Ah ecco 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 Salve Fa tutto da solo Sì Puoi anche tipo Fai determinate cose Tieni determinati soldi Tipi di soldi E alla possibilità di personalizzarti Il personaggio Tipo con delle ali Delle maschere Dei cappelli Dei guanti Adesso qua Con questa versione online Ha più senso Farti La tua La tua La tua casa Diciamo Sai che puoi Fai la tana E ti puoi Spero che si possa fare No no Puoi farlo Non hai visto il trailer Del sito No Non l'ho visto Ficca dovevi vedere Era un spettacolo Ci sono molto Andate indietro Sì E tu mi stai superando Perché Ma aspetta Ma Non dovrei avere le scarpe Eh Non ci abbiamo ancora Se vedrà quando ripartiamo Ricordi che la mamma Ci le mette in culo dopo In piedi Mammina Sarà più veloceglia Sarà più veloceglia Sarà più veloceglia Scatti Tu scatti Io corro direttamente Questo qua Stancura Dove sei? Vai Dove sei Salve Salve Passo per passo Piano piano Ce l'abbiamo fatto uscire Senza Senza beccarci dei nemici Devo trovare un altro Un altro programma per registrare Però non so che prendere Potrei prendere Bendicam Solo che mi dà fastidio La scritta Woot Punto bendicam Punto Cazzi Maz Eh non so Però scusa Se noi invece Scegliamo di andare Nell'altra regione Ovviamente le cose cambiavano Però Si c'era la storia dell'altro Però tu potresti lo stesso fare entrambi i luoghi oppure no in che senso? c'è un altro personaggio? no, non farti un altro personaggio inizi con questo, finisci la lega e poi andare nell'altra regione penso di sì, sì, perché c'è scritto starting region, quindi sì, probabilmente ci puoi andare sono contento se ci possiamo andare se ha conto due, sarebbe questa serie 300 puntate minimo, come tutte le serie di Pokémon che senti al mondo solo che questa è più divertente perché siamo in due ok 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 non ho finito qua no aspetta, non è mica finito appena andiamo oltre, dobbiamo andare nella cazupola devo soltare la bambina ma bastardo, tu fai più veloce di me vabbè, dove ti aspetto però però nelle caverne dove non si vede un cado dopo dobbiamo ancora porrare sì ciao mamma io me ne vado cos'è, cos'è ah, morning cioccolati pochi cioccolati porcomon ma ha dato le scarpe, vero? no, no aspetta ma cos'è F1, F2, F3, F4, F5, F6 cosa sarebbe? non so, questi siano tipo gli oggetti speciali quelli che puoi usare di solito con o select o che ne so tipo il lamo la bicicletta non mi vede, non mi vede, non mi vede via alla C per vedere il Pokedex per vedere i tuoi i soldi il battle point e quindi io non so cosa suono comunque se vuoi prendere la mappa è qua dentro sì, ma io voglio le scarpe ehi, le scarpe ci le daranno in futuro signora, mi dia la mappa signora, senza fare discussioni dia, dia a me quella mappa porco schifo è una grande mappa di canto region grazie è una grande mappa ho un problema cioè ho contato uno stronzo uno stronzo di quale dimensioni? delle dimensioni di un uccello no, si è svegliato sta merda mi ha fatto male è lo stronzo vuol dire effettivamente sì se si sveglia la merda è normale che si è stronzo dai due che è, commenti di merda decisamente, decisamente commenti di merda forza, forza, forza oh lei, mi sono preso un uccello pass dove sei finito tu? e sto lottando dove? ah, eccoti hai fatto un passo nell'arba alta aspetta, aspetta facciamo una scommessa vediamo chi si becca un incontro passando per di qua 3, 2, 1, via bello l'ho preso anch'io l'ho preso anch'io l'ho preso anch'io ah, ok siamo i due oh, un ratatata che culo mi sono anche questo mi metto in culo la palla da poco voglio che trovi il pg eh, io ho trovato un pg perché sta dormendo ah, uno di vita non lo so, inizia a vedere che dorme è strano o me va bene, è più facile da catturare ok, e quasi in fin di vita ho ucciso ah, zackle aspetta, che devo fare ok, avrei perso la scommessa di brutto ho trovato un altro aspetta, io voglio scendere vittorioso uno due tre è mio sii caccia avrei perso lo stesso ho trovato un altro anch'io che palle un altro pg io ho trovato un altro però di livello inferiore io l'ho beccato a livello 4 quindi niente, ciao per vedere se lo catturi basta guardare a destra che quando lanci la pokeball ti vede a destra se l'hai catturato o meno ti fa comparire subito si lo conosco il gioco non è che sono così handicappato cioè lo conosco ci sono passato gli anni ahia di se tu ti dici la pokeball e guardi a destra se ti può comparire subito il pokemon appena lanci la pokeball in pratica così sai subito se l'hai catturato o meno ah diciamo che questo è il vantaggio si te lo dici subito però che che non voglio affrontare gentaglia anche alta scommessa 1,2,3 via ce l'ho fatta ma che cazzo tu che parli tanto ecco ci arrivo anch'io è strano questa è mafia non è giusto io sono più lento no devo trovare un altro no fraps è dopo di un po' cioè perfino io toby ha cambiato coso allora io vado dentro perché tanto non credo che ci sia perché ho sentito Rex che diceva a speedy che volevano fare una sfida se per caso un pokemon moriva lo devono liberare non lo so si è così? no lo so però no era una sfida che si erano imposti ah no io non lo voglio fare anch'io che cazzo non mi godo il gioco ah già hai fatto non ha neanche partito non fa neanche vedere l'animazione dove posiziona le pokeball e poi le cura neanche è più veloce però più veloce tac tac fine da me le blum luyo il quel che andrà a dire personaggi di fretta qua adesso vuoi sapere com'è che si cambia l'ordine dei a che culo perché si è portato dall'altra parte invece sono rivolto verso lo schermo ecco perché vuoi salutare per cambiare programma per registrare poi troverò un altro programma per registrare per adesso diciamo che possiamo finire qua ok manu e ci sentiamo più avanti da zodiac ed ag il chaos 28 games ci vediamo fai birra di meno a me ne vado ciaiaiaiaiaiaiai no no dai non volevo oh che culo che culo non vieni qua vieni qua oh aspetta aspetta vieni qua sono qua su sono qua su sono qui di giri 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 ah fa il culo era un golino sfrattuto dai vieni qua vieni qua lo avevo trovato uno strozzo in fondo ha una pokéball prendila c'è pokéball non è una pokéball l'oggetto si mi confondo sempre i tasti una pozione oh io li ando scherzando non volevo neanche andarci cioè non volevo andarci seriamente sono andato seriamente quindi cerchiamo questa parte di gameplay spero che i video vi sia piaciuto sempre con ma stai ancora registrando tu si ma sei uno stronzo allora vabbè ci sentiamo ciao